Buonasera a tutti Vorremmo dedicare questo concerto alla scuola di Brindisi immagino che sia una cosa assolutamente condivisa oggi è la festa di Radio Lab ma è successo ancora un'altra cosa importante svegliamoci questa canzone si chiama Testa di Morte non posso più aspettare mi scampo di spisciare non posso più aspettare mi devo fare un'altra vita non posso più aspettare 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 che era così Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.